Allora eccoci in media plaza col presidente Barberis, siamo al secondo giorno del congresso. Presidente, ci racconti un po' le sue impressioni finalmente al congresso, ieri, oggi? Ex-presidente, perché non sono più il presidente della Camera di Commercio di Torino. Sempre presidente. Beh, ovviamente, per rompere il ghiaccio, ovviamente sono molto soddisfatto. Io penso che sia un momento che noi, tutti della Camera di Commercio di Torino, ma anche di altre realtà del torinese, abbiamo aspettato questo momento. Perché da una parte portavamo qui persone importanti del mondo dell'economia, ma dall'altra parte non sapevamo poi che tipo di risultato veniva fuori. Devo dire che dopo un giorno e mezzo abbiamo raggiunto un po' tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. C'è tanta gente, sono il numero che avevamo immaginato, sono tutti interessati. Torino fa un figurone, Torino fa un figurone come città, fa un figurone come persone, fa un figurone come istituzione, fa un figurone, io dico, non per definizione, ma sicuramente è l'espressione di un territorio che chi conosce Torino lo sa, ma quelli che non la conoscono e vengono qui per la prima volta ne sono, penso, stupiti, in positivo e quindi ritorneranno. Bene, grazie. Ora introduriamo il signor Barberis al nostro parlato inglese. Signor Presidente, qual è la vostra impressione del Congresso di oggi e di oggi, il primo giorno? Sì, sono il signor Presidente, perché ho terminato il mio mandato. e per noi è un momento importante, perché quando tre o quattro anni fa abbiamo deciso di partecipare al dipendente di avere questo congresso, c'era una domanda di question se siamo in condizione di avere tutti i persone qui qui, per organizzare tutto. Dopo un giorno e mezzo di congresso lavorando, credo che abbiamo molti persone, abbiamo molti interessi sul tema, l'organizzazione è molto bene organizzata da l'ICC, la FED e da le istituzioni di Torino. E siamo orgogliosi di unire con questi risultati. Grazie mille, signor Barberis, e ci vedremo il prossimo giorno. Ok, grazie. Grazie.